Buonasera, buonasera a tutti gli aretini che sono con noi a questa centosettantasettesima puntata della diretta del sindaco delle diciotte e trenta per informare la cittadinanza sull'evoluzione della diffusione di covid-diciannove per l'appunto in città e anche in provincia, regione e nel nostro paese, nell'Italia. Eh partiamo dai dati prima di di fare commenti e vedremo come possiamo eh diciamo orientarci nei comportamenti per i prossimi giorni. Allora oggi in città di Arezzo, comune di Arezzo abbiamo ventisei persone contagiate da covid-diciannove e ce ne sono ben novantadue in provincia. Questo è un numero importante che ritorna dopo un paio di giorni di relativa tranquillità a livello provinciale. I ehm i contagiati del comune di Arezzo sono dunque sei mila settecentosettantaquattro quelli della provincia dicendove mila duecentoquaranta. Vi do sempre a questo punto il numero per noi più importante, il numero chiave che è il numero di contagi in sette giorni per centomila abitanti che per il comune è centosettantasette per la provincia è centosessantanove. Entrambi significativamente inferiori alla soglia minima dei duecentocinquanta eh diciamo ehm indicata dal Ministero della Salute come soglia al di sopra della quale occorre attenzione. veniamo al dato ehm regionale il i contagi nelle ultime ventiquattro ore in Toscana sono stati ottocentoquarantasette quindi siamo sotto i mille a in maniera consistente, decisa, sicura, quindi sembra che le cose anche in tutta la Toscana stiano andando discretamente bene. la il totale settimanale per la regione toscana è di cinque mila novecentonovantuno contagiati che rapportate ai centomila abitanti fanno centosessantadue eh contagi per sette giorni per centomila abitanti quindi ricordando che il comune è a centosettantasette la provincia a centosessantanove di fatto abbiamo dei numeri rassicuranti quindi la regione sembrerebbe anche nel suo complesso essere riuscita a risolvere quei problemi di contagio forti che erano rimasti a carico di alcune città dell'area centrale. Veniamo ai dati nazionali quindi prego Gianni Rossi di farci vedere in sovraimpressione l'andamento del dato nazionale che attendo solo un attimo a leggere bene vedete i nuovi casi tredicimila trecento e ottantacinque quindi più zero virgola trentaquattro per cento totale italiano tre milioni novecento e novanta quattro mila ottocento e novanta quattro quindi il numero sempre più vicino alla soglia di quattro milioni di contagiati i morti purtroppo sempre tanti si si conferma la diciamo numerosità compresa tra i trecento e quattrocento deceduti al giorno che è un numero secondo me stravigliante e quindi si tratta oggi trecentoquarantaquattro più zero ventinove per cento rispetto a ieri il numero totale di deceduti per eh pandemia nel nostro paese è quindi oggi di centoventimila duecento e cinquantasei i dimessi o guariti sono diciotto mila quattrocentosedici gli attualmente positivi meno cinquemila trecentosettantotto questi sono dati nazionali nelle ultime ventiquattro ore quindi chiederei a Gianni Rossi di farci vedere il solito grafico che ci fa vedere l'andamento dal metà di ottobre in poi eccolo qua vedete interpretiamo sempre per primo il diagramma pallini rossi che ci dà il l'andamento delle dei casi totali e lo vediamo decisamente in in diminuzione nelle ultime due settimane altrettanto in diminuzione è oggi il numero dei guariti gli attualmente positivi invece stanno crescendo bene vediamo adesso il dato per noi sempre molto importante dei positivi su tamponi nella nostra provincia ecco questo è un dato che oggi è molto stridente vedete quella colonnina celeste diciotto e cinquantuno assolutamente al di fuori di qualsiasi ragionevole ehm previsione il diagramma che rappresenta lo stesso rapporto ma fatto sullo stesso giorno è meno della metà perché rappresenta otto virgola ventiquattro per cento per la cronaca siccome ieri non c'eravamo visti ce ne siamo visti lunedì ventisei ieri questi dati erano sei e cinquanta con un metro di calcolo quattro e settantuno con l'altro ora quel diciotto e cinquantuno però grida vendetta va spiegato perché eh vi ricordate lunedì ventisei lunedì ventisei vi avevo dato notizia che c'erano stati un numero di tamponi relativamente basso erano stati fatti quattrocentonovantasette tamponi rispetto al valore medio di intorno ai mille poco meno di mille poco più di mille che ormai ci accompagna tradizionalmente evidente quindi che se noi dividiamo il numero dei positivi di oggi giorno in cui sono stati fatti credo un migliaio di tamponi non lo so non ho letto il dato ma mi aspetto di sì e lo dividiamo per il numero di tamponi fatti due giorni fa che era circa la metà troviamo un numero sicuramente falsato quel diciotto e cinque oggi è un numero che non ci deve sorprendere ma è un numero che ha poco significato se pensiamo alla metà siamo intorno al nove allora ritorna un valore eh simile a quell'otto e ventiquattro che rappresenta il calcolo dei positivi di oggi diviso i tamponi di oggi quindi anche l'interpolazione del diagramma trattini rossi che è l'interpolazione lineare dei dati celesti è da prendere con le molle proprio perché il dato di oggi lo possiamo considerare un outlier un dato assolutamente atipico il diagramma invece verde che rappresenta più correttamente il trend eh da un valore da una una tendenza a decrescere nel tempo dal nove aprile ad oggi è in netta diminuzione bene chiederei a Gianni adesso di farci vedere il la tabella che rappresenta il sistema vaccinale per vedere cosa sta succedendo nel nostro paese allora partiamo dal dato generale in Italia sono state fatte diciotto milioni seicento diciassette mila spiccioli somministrazioni quindi è stato raggiunto qualcosa come considerando che molte di queste anzi tutte queste sono somministrazioni salvo quelle degli ultimi giorni in gran parte doppie possiamo dire che sono stati vaccinati più o meno un ehm dodici per cento tredici per cento della popolazione nazionale quindi un valore relativamente modesto vedete la Toscana ha una percentuale di eh somministrazione dell'ottantanove virgola quattro per cento e quindi sono state somministrate in Toscana un milione centosettantasei mila centoquarantuno dosi mentre ne erano state distribuite un milione di trecentosedicimila tonde questo diciamo divario dovuto al fatto che i medici evidentemente si tengono un po' di riserva per le seconde dosi a coloro che hanno appena ricevuto la prima in un momento in cui ancora non è certa la consegna dei vaccini questo è il nostro la nostra bestia nera in questo momento è proprio quella della mancanza di consegna dei vaccini bene prima di passare al dato epidemiologico fatemi concludere con i dati cittadini la polizia locale ha eh rilevato negli ultimi due giorni io vi do l'aggiornamento dei giorni ventisei e ventisette aprile eh quindi eh lunedì e martedì insieme contestate tra le altre seguenti violazioni alle norme elettorici della strada eh autovettura sprovvista di assicurazione obbligatoria eh due ehm conducenti del carro che trasportavano il sovraccarico e vari altri eh diciamo ehm contravvenzioni per diciamo eh contravvenzioni a corretti comportamenti sulla strada e rilevati quattro incidenti stradali di cui anzi di cui tutti e quattro conferiti soggetti denunciati all'autorità giudiziaria una persona per avere effettuato attività di lizia non autorizzata queste sono notizie diciamo un po' così di 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 percorso quelle che riguardano il covid sono una un verbale per spostamento non autorizzato ricordo che per fare uno spostamento ancora oggi occorre avere uno uno spostamento fuori comune occorre avere una eh una valida motivazione e poi due sanzioni per mancato uso mancato uso delle mascherine quindi ancora c'è chi non ha capito che le mascherine vanno usate sempre andiamo a vedere i dati epidemiologici che ci fornisce l'azienda allora nella Toscana sud est oggi complessivamente sono stati eh riscontrati centonovantacinque casi di positività novantadue nella provincia di Arezzo settantacinque in quella di Siena ventisette in quella di Grosseto i dati comunali per il comune di Arezzo già li sappiamo abbiamo avuto ventisei casi gli altri numeri sono dieci casi registrati a Sansepolcro eh cinque casi a Capolò sei casi a Lorociuffenna cinque a Capolonna poi quattro a San Giovanni Valdarno a Cortona a Castelfranco Biandiscò e a Castiglion Fiorentino e poi si scende tre due uno e non non visto non ve li sto a leggere per quello che riguarda il i posti letto occupati la decenza covid del San Donato di Arezzo è scesa 87 decenti ricoverati la terapia del San Donato 18 letti occupati anche questi numerici diciamo tranquillizzano in certa misura dagli 87 che abbiamo oggi potremmo arrivare fino a 124 in terapia covid cioè le ex malattie infettive e la terapia intensiva eh da diciotto può arrivare fino a venticinito quindi c'è un po' di margine poi la decenza covid della misericordia di Grosseto dà trentaquattro letti occupati e la terapia intensiva dello stesso ospedale undici eh undici letti occupati vediamo numero di tamponi effettuati in provincia di Arezzo sono vedete mille centodiciassette quindi se si prosegue con questo numero il nostro modo di calcolo è quello della protezione civile sono si sovrappongono il nostro è più corretto perché i tamponi certificati oggi sono stati presi due giorni fa ora però siccome due giorni fa abbiamo avuto ehm circa la metà di tamponi quel numero ha portato a quel valore altissimo della colonnina celeste eh che abbiamo visto poco fa e abbiamo anche commentato ehm le persone positive in carico in provincia di Arezzo sono mille se cento nove di cui a domicilio ben mille duecento quarantatré a cui vanno sommati vanno sommate le persone che sono in quarantena in quattro in quanto contatti stretti di caso che sono tre mila novecento eh trentadue quindi tre mila nove quattro mila nove cinque mila cento circa siamo 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 in provincia di Arezzo a star dietro a più di cinque mila persone che sono tra virgolette agli arresti domicili ci siamo quasi veniamo alla risposta alle domande poste dai cittadini non mi non mi faccio pregare a dare queste risposte dunque prima domanda riapriranno i centri commerciali il fine settimana? La risposta secca è no non riapriranno addirittura è stata anche tolto dal decreto quello che nella prima bozza era presente cioè che i supermercati si sarebbero sarebbero stati riaperti nei fine settimana dal quindici maggio è scomparsa anche questa previsione quindi al momento non è dato sapere quando i supermercati potranno riaprire. Altra domanda per favore ci dica dove se fanno vaccini senza prenotazione per gli over settantacinque il tema generale dei vaccini non 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 è possibile fare eh non esiste la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione per questa categoria che è quella del sito della regione degli over settanta classi di età dal quarantuno al cinquantuno quindi dovete per forza entrare nel sito della regione e prenotarli. Poi altra domanda che mi dovrebbe anche riguardare sapete quando partiranno i vaccinati i vaccini del mille novecentocinquantadue io sono del mille novecentocinquantadue quindi attendo il mio turno non è dato saperlo forse giugno non non lo sappiamo quindi staremo a vedere staremo in attesa e ci comporteremo sempre con grande circosprezione con grande attenzione perché siamo soggetti a rischio che in questo momento non hanno la possibilità di vaccinarsi. è una ehm per me non è facile darvi queste queste notizie perché sono notizie di fallimenti questo è un fallimento che riguarda la campagna vaccinale regionale c'è poco da fare che poi non ci sia una responsabilità diretta dell'amministrazione regionale è un altro conto perché il fallimento deriva sostanzialmente dal fatto che non ci sono dosi vaccinali disponibili e questo non dipende dalla regione ma dipende dal nostro governo o meglio ancora dipende dall'Unione Europea anzi dipende dalla Commissione Europea per dare a Cesare quel che è di Cesare che ha sbagliato completamente la politica di acquisti. Fatemi dire questo sono un europeista convinto ma questa diciamo eh attività di uniformazione dei comportamenti in tutta l'Unione secondo me non ci ha portato bene. secondo me dovevano essere lasciati liberi gli stati membri di fare i propri liberi contratti sui mercati internazionali lasciando non al libero arbitrio ma alla sana contrattazione economica di ciascuno stato membro e soprattutto alle eh indicazioni che le varie ehm diciamo le i vari organismi centrali come l'Istituto Superiore di Sanità potevano dare anche su vaccini che in altre parti del mondo sono utilizzati felicemente. mi riferisco al Johnson e mi riferisco soprattutto a uno dei più disponibili a basso prezzo che è il Sinovac che è quello cinese. Sta pandemia è nata lì, lì hanno studiato i vaccini, non credo che ci sia molto da commentare su questo. Certo la scienza deve certificare ma una volta che ha certificato e so che ci sono stati che se ne sono eh diciamo serviti che hanno stanno avendo risultati ottimi con percentuali di vaccinazione molto elevati. due esempi per tutti la eh la Serbia e l'Ungheria. Chiusa eh parentesi polemica. Ehm in quanti si potrà andare in macchina da lunedì ventisea? Prima questa è una domanda chiaramente vecchia a cui rispondo oggi perché nei giorni scorsi un c'era stato tempo. Allora rispondiamo facendo un po' un'analogia con quanto è successo nel passato. Allora se i componenti se in macchina vanno i componenti di uno stesso nucleo familiare eh ovviamente dalle cinque alle ventidue ci si potrà stare almeno in quattro in quell'auto perché non ci sono separazioni particolari ma si deve essere appartenenti allo stesso gruppo nucleo familiare con il quale si condivide la tavola a pranzo con il quale si condivide il posto alla televisione in casa. Quindi una piccola comunità la comunità familiare che anche quando si sposta in macchina può oggettivamente stare in macchina anche in in posizione ravvicinata. Se invece all'interno dell'autovettura ci sono componenti non dello stesso nucleo familiare che quindi potrebbero scambiarsi qualcosa solo in quell'occasione lì e ricordo che l'autovettura è un ambiente chiuso piccolo. Ora si va verso la bella stagione ma fino ad ora si stava con finestre nei chiusi e riscaldamento acceso e quindi non era un gran che se ci fossimo diciamo ritrovati con soggetti non appartenenti al nostro nucleo familiare. Quindi è evidente che per questi valgono le restrizioni che sono poi quelle che non si può stare in più di due nella stessa fila di macchina per cui al massimo ce ne sta uno davanti e due di dietro e oltre il guidatore è finito. Poi un'altra domanda apparentemente polemica mi si chiede visto che riapriamo tutto perché non riaprire gli uffici comunali non possiamo stare sempre a prenotare? Beh gli uffici comunali non hanno mai chiuso hanno sempre lavorato supernotazione andando dietro a quelle che sono le direttive ministeriali per evitare che nella coda nell'attesa specialmente ripeto con la brutta stagione quindi al chiuso le persone stessero in un ambiente poco salubre dal punto di vista della possibilità di scambiarsi il vaccino. E quindi ancora oggi si lavora su appuntamento ma si lavora quindi gli uffici comunali sono aperti su appuntamento ma in realtà questo capisco che possa dare un po' di fastidio ma siccome lo smart working per la pubblica amministrazione è stato posticipato fino al 31 luglio noi fino a quella data siamo tenuti a lavorare a distanza e quindi a lavorare con i cittadini su appuntamento. Poi c'è un'altra domanda spero che il sindaco e il prefetto non diano via libera alla fiera antiquaria persone anziane fragili ancora in attesa di vaccini e chi ha fatto la prima dose non è coperto. 1-2 maggio è da incosciente aprire i cancelli tutti senza sicurezza regione per regione ognuno a casa sua finché non siamo stati vaccinati almeno un 50-60%. Terapia intensiva Arezzo 18 casi non so con che criteri usate certe scelte poco serie. Già tanto giusto ristoranti bar aperti non mettete altra carne al fuoco. Giugno alle porte con meno morti e più vaccini fatti. Attenzione stiamo prudenti. Io accolgo il diritto di dolore del cittadino però devo dire che la fiera antiquaria è una nostra manifestazione storica e distintiva e non possiamo annullarla anche se ricorrono le condizioni amministrative per poterla fare. Questo non per far contenti i commercianti è un tema ma non è questo il tema il tema è far rivivere alla città le sue esperienze ovviamente con tutte le cautele per cui la fiera antiquaria non si tiene in piazza grande e in piazza San Francesco in via Cavour quindi nei luoghi dove volero volare si sta un po' tutti stretti. Si tiene al prato dove c'è spazio dove abbiamo già visto lo scorso anno quando siamo ripartiti a giugno che la fiera in realtà si può tenere e con distanziamenti opportuni tutti i banchi saranno dotati dei liquidi per la sanificazione delle mani i cittadini o i turisti ammesso che ci siano che andranno a visitare i banchi devono sempre avere la mascherina non devono toccare gli oggetti devono indicare al venditore qual è l'oggetto di loro interesse il venditore lo prende fa sanificare le mani al soggetto che a quel punto lo può toccare cioè dobbiamo imparare a convivere con questo sistema di contagi e quindi la fiera si farà si farà al prato e devo anche dire che io sono contento che si rifaccia la fiera d'Arezzo che è uno dei nostri punti di forza per l'economia cittadina ma dobbiamo farla con attenzione. Ovviamente su questo il prefetto è stato d'accordo c'è stato un incontro a cui ha partecipato l'assessore Chierici che ha sostanzialmente definito le modalità per disporre i banchi e per poter evitare che ci sia comunque assembramento mi auguro spero che la smetta di piovere perché se no qui tutte le volte si vede piove come è che piove? Dice ma sì c'è la fiera e purtroppo è un sillogismo che è venuto fuori questo e dovremmo uscirne quanto prima. Faccio a tutti gli auguri quindi di una buona fiera buona e sicura quindi il cittadino non me ne voglia se io ho letto la sua domanda e io ho risposto picche ma mi creda abbiamo bisogno anche di far ripartire la fiera. L'importante è farla ripartire bene. Bene chiudiamo siamo arrivati appena appena lunghi eh do a tutti le solite raccomandazioni che do ogni volta voi vi metterete a ridere perché il sindaco tutte le volte chiude da centosettantasette volte sempre nello stesso modo. e questo voglio che sia un segno distintivo di questa nostra trasmissione perché ci deve ricordare l'attenzione che dobbiamo porre nella sanificazione delle mani nell'utilizzo della mascherina toccandola sempre soltanto dalla parte degli elastici mantenendo le distanze di un metro e ottanta fatemelo dire nel decreto c'è scritto che ai ristoranti si deve stare distanti un metro ma per me se stiamo un metro e ottanta è molto meglio stiamo distanti fisicamente stiamo vicini col cuore e sicuramente ce la faremo